Regalaci una domanda, una domanda che ti fai spesso, una domanda provocatoria. Allora, non me la faccio spesso, però è una domanda molto provocatoria. Cosa cambieresti e come ti comporteresti se avessi solo sei mesi di vita? Noi spesso pensiamo che le cose siano scontate, no? Ci comportiamo, ci agitiamo per delle cose di lavoro, discutiamo in famiglia. Allora, perdiamo veramente di vista un aspetto fondamentale che è la nostra vita. Cioè il dono che abbiamo di poter vivere tutti i giorni, una vita tutto sommato agiata, chi più chi meno, ma di poterla vivere. E siamo circondati da prove inconfutabili in cui dovremmo veramente tenere, ringraziare tutti i giorni di poter avere questo privilegio. Abbiamo avuto due anni di pandemia in cui sono morte decine di migliaia di persone. Un paese che sta a fianco a noi e in guerra da un giorno all'altro, si sono svegliati con una vita completamente diversa. Eppure, ad iniziare da me stesso, ma guardandomi anche attorno, continuiamo a prendercela per stupidaggini. Siamo veramente irrispettosi di questo privilegio che abbiamo. Grazie mille. 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 Grazie mille.